ariete in questi giorni possono emergere questioni in ambito lavorativo che suscitano un po di apprezzione meglio affidarsi alla logica e alla mediazione con l'impulsività otterrete poco vi sostengono una bella forza vitale e la fiducia dei vostri mezzi toro un po di stanchezza e insoddisfazione possono inquinare l'andamento del periodo siete più riflessivi e meno attratti dalle frequentazioni avete bisogno di fare il punto della situazione su alcuni settori di vita la vostra indole tradizionalista e concreta si scontra con l'impulso al cambiamento gemelli l'attenzione si concentra sulla vita di società sugli incontri e sulla capacità di trovare accordi proficui nella sfera della vostra attività portate avanti con entusiasmo alcuni programmi e siete arricchiti da una bella dose di energia positiva che vi spinge a superare i limiti cancro è una fase di ripensamento di sopportazione a volte nella quale siete inclini a eliminare relazioni o situazioni che ormai sono spente c'è la voglia di dare una svolta alla vostra vita ma vi è richiesto un certo impegno venere però sta arrivando nel segno e vi addolcirà con l'amore leone l'ingresso di mercurio nel segno rafforza la positività del vostro cielo intensificando la vita sociale le relazioni e ispirandovi qualche nuovo programma di lavoro o personale in questo momento di energia e movimento mentale potete raggiungere obiettivi ambiziosi vergine giornata un po sottotono ma nel complesso ordinaria inserita in un periodo positivo che vi inclina osservare le cose con senso pratico l'attenzione è rivolta alla vostra attività alle questioni giornaliere al consolidamento di alcuni programmi bilancia siete irrequieti in questo periodo forse a confronto con qualche realtà che vi sta stretta ma siete anche ricchi di iniziativa e di un sobollimento di idee che vi porta lontano buona la vita di relazione la sfera delle amicizie gratifica il vostro spirito scorpione giornata dai toni nervosi il movimento di questi giorni accresce il ritmo di lavoro dovete oltrepassare anche alcune noie ma tutto sommato le prospettive che avete di fronte sono buone occorre meno agitazione e più capacità organizzativa sagittario è un periodo vitale dinamico e positivo che riaccende in voi molti entusiasmi dopo una fase un po insoddisfacente nuova vita anche ad un progetto una collaborazione le conferme in ambito lavorativo si moltiplicano agite comunque con atteggiamenti saggi capricorno stimolati da marte in angolazione dissonante ricevete impulsi irrequieti che vi inducono a vivere con una certa insofferenza o apprezzione tuttavia l'accumulo planetario nel vostro segno rafforza lo spirito ambizioso e la tenacia con ottimi risultati acquario sole e mercurio si pongono in aspetto di opposizione e possono disturbare la sfera delle relazioni personali o di lavoro un certo rallentamento nei programmi qualche inconveniente può irritarvi ma non prendete tutto di petto smorzate i toni pesci state attraversando un periodo regolare di routine che comunque vede un progressivo rilassamento benefico nelle tensioni anche la sfera sentimentale si avvia verso migliori percezioni e ammorbidisce i rapporti con chi amate negli affetti e col partner buone stelle buone stelle buone stelle